Musica Sale a 5 il numero dei medici positivi al coronavirus all'ospedale Umberto I di Siracusa. Questa mattina è stato notificato a una dottoressa del pronto soccorso l'esito del tampone, che è risultato positivo. Il medico è stato subito posto in quarantena. Nel frattempo sono stati effettuati nuovamente 20 tamponi su medici e infermieri dell'Umberto I per verificare l'eventuale positività al covid-19. Il pronto soccorso si conferma un focolaio insidioso per operatori sanitari e per pazienti, mentre stanno per entrare nella piena operatività i percorsi suggeriti e disegnati dal covid team per evitare il rischio di contatto e il rischio di contagio tra pazienti positivi al covid e quelli che sono invece sani. E' salito a 7 il numero dei deceduti in provincia di Siracusa. Ieri infatti non ce l'ha fatta una donna anziana che accusava i sintomi del covid-19. E' l'unico dato negativo rispetto al bollettino diffuso dalla regione siciliana e trasmesso all'unità di crisi nazionale. Un dato che si era stabilizzato dal 25 marzo, quando si verificò la morte della siracusana Silvana Ruggeri, la cinquantenne collaboratrice dell'architetto Calogero Rizzuto, che era deceduto due giorni prima anche egli ricoverato al covid center dell'ospedale Umberto I a causa del contagio da coronavirus. In questa triste gratuatoria la provincia di Siracusa condivide il quinto posto tra le nove siciliane al pari di Caltanissetta. E' rimasto invariato 77 il numero delle persone contagiate, mentre è salito a 25 il dato delle persone guarite dal coronavirus, una in più rispetto al rilevamento del giorno precedente. Resta invariato anche il numero delle persone ricoverate, che sono 44 nelle tre strutture nelle quali si trovano le persone affette da covid-19. Dall'inizio delle emergenze e casi complessivi di positività al coronavirus nella nostra provincia sono stati 107, uno in più rispetto alla giornata di sabato, per una variazione parziale di più 0,9. Due automezzi della Polizia Municipale a supporto degli agenti impegnati nell'attività di controllo sul territorio sono stati danneggiati ad opera di vandali, che con lanci di sassi hanno infranto lunotti e vetri laterali delle due auto di servizio. E' accaduto in via Algeri, dove la Polizia Municipale si era portata a seguito di una segnalazione per un controllo su attività svolta lungo la pista ciclabile. Solidarietà alle pattuglie della Polizia Municipale e del pronto intervento. L'ha detto immediatamente il sindaco Francesco Italia aggiungendo Siracusa non è questa, nessuno potrà fermare i controlli a tutela della salute di tutta la nostra comunità. Quanto è accaduto ieri in via Algeri è un fatto di una gravità inaudita, un gesto che condanniamo fortemente, un gesto che non farà desistere dai controlli, controlli che sono per il rispetto del decreto, ma soprattutto per il rispetto verso la salute di tutti i cittadini. Controlli che vengono fatti per cercare di diminuire il diffondersi del contagio. Se Siracusa è tra quelle province che hanno avuto un livello di contagi un po' più attenuati e soprattutto grazie al lavoro, al grande lavoro delle forze dell'ordine, in primis gli uomini della Polizia Municipale, uomini e donne a cui va la mia solidarietà. Per quanto è accaduto ieri, un gesto che le istituzioni non meritano, un gesto inqualificabile che tutti devono condannare fortemente, un gesto che non fermerà i controlli e speriamo sia semplicemente un gesto sporadico, una bravata, un qualcosa che non fa parte dei siracusani. Dopo la puntata di ieri sera di Report su Rai3 è stata avviata una sottoscrizione firmata da oltre 2000 persone per chiedere che venga rimossa la dirigenza dell'ASP di Siracusa. Ieri sera dopo aver visto la puntata di Report ho ritenuto opportuno lanciare sulla piattaforma change.org una petizione online. La situazione drammatica che emerge dal servizio ha bisogno di avere delle risposte da parte della politica siciliana e credo che in questo momento il miglior modo sia quello di contattare virtualmente tutte quelle persone che come me si sono sentite indignate dalle risposte, anzi meglio, dalle non risposte del dottore Ficarra sulla triste vicenda del direttore del parco archeologico Calogio Rizzuto, sulla situazione che stanno vivendo i tanti dipendenti della sovrintendenza ai quali va un mio virtuale e caloroso abbraccio. Credo che la situazione a Siracusa, che a noi purtroppo cittadini siracusani era abbastanza già ben chiara da tempo, sia veramente arrivata ad un punto di non ritorno. Credo che quanto sta accadendo all'ospedale di Siracusa non fa altro che mettere in luce le lacune di una struttura che non è adatta a gestire questo tipo di emergenze. Credo che sia opportuno che a questo punto il presidente della regione musumeci prenda delle decisioni serie e con i poteri speciali che lui sta chiedendo risolvere definitivamente la questione sul posizionamento e sulla realizzazione in tempi rapidissimi di un nuovo ospedale a Siracusa e soprattutto di rimuovere i vertici dell'ASP di Siracusa perché si sono dimostrati inadeguati a gestire una situazione di grandissima emergenza avendo un vantaggio di più di un mese sul resto d'Italia. La CGL di Siracusa intanto insiste nelle richieste fatte all'ASP e chiede anche di fare conoscere come e perché i tamponi siano stati effettuati fino a ieri da un solo laboratorio privato in provincia di Siracusa con ovvio ritardi negli accertamenti di positività perché non si sia ritenuto di potenziare e attrezzare allo scopo sin da subito un laboratorio nelle strutture ospedaliere. Il segretario della CGL Roberto Alosi chiede quali provvedimenti si siano presi o si intendono adottare per assicurare che le strutture sanitarie private e convenzionate col pubblico mettono a disposizione della sanità pubblica le loro strutture, personale e mezzi. Cosa si aspetta per intervenire tempestivamente in oltre 120 case di riposo per anziani disseminate in tutta la provincia così come continuerà a chiedere conto e denunciare ogni inefficienza, spreco, colpevole ritardo, negligenza, contrarietà agli interessi pubblici della sanità siracusana di cui venisse a conoscenza. Il reparto di oncologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa viene trasferito all'ospedale di Avola per evitare il rischio di ulteriori contagi, soprattutto tra il personale sanitario. Sono scattate nuove misure legate alla gestione dell'emergenza all'ospedale siracusano. Il Covid Team, che nei giorni scorsi ha studiato i percorsi per dividere gli accessi all'appronto soccorso, evitando così il contatto con i positivi al Covid, sta cominciando ad attivare alcune soluzioni drastiche. La più significativa, annunciata già all'indomani del caso positivo di un medico, di un infermiere, è costituita dal trasferimento dell'unità operativa complessa di oncologia. In via del tutto emergenziale, provvisori a tutte le attività e il reparto di oncologia sono stati trasferiti all'ospedale di Maria di Avola. Quella struttura ospedalera non è stata individuata come Covid Hospital per cui i pazienti oncologici non avranno alcun contatto con persone positive al coronavirus, tali da mettere a repentaglio la loro salute. Nella gestione dell'emergenza da epidemie, scritto in un documento diffuso dall'ASPO 8, al fine di tutelare i pazienti oncologici, notoriamente pazienti fragili, e garantire la continuità assistenziale, l'attività dell'unità operativa complessa di oncologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa viene quindi trasferita all'unità operativa di oncologia dell'ospedale di Avola, presidio ospedaliero non Covid-19, quindi allocata al quarto piano. Ciò consentirà, tra l'altro, anche la realizzazione del secondo pronto soccorso non Covid-19 all'ospedale Umberto I, secondo il piano aziendale Covid. I pazienti continueranno a ricevere trattamenti chemioterapici, immunoterapici e target therapy, in regime di day hospital, l'ambulatore per le prime visite e le visite urgenti, l'ambulatore dedicato alle terapie orali e i ricoveri in regime di degenza ordinaria. Un gesto di solidarietà che va oltre le apparenze, il presidente della Fondazione Sant'Angela Melici, Onlus Donalfio Linoce, ha presentato la donazione all'azienda sanitaria provinciale di Siracusa di due ventilatori polmonari, strumenti necessari e fondamentali in questa fase di emergenza da coronavirus. La Fondazione è un ente ecclesiastico della diocesi di Siracusa che opera secondo i principi che incarnano i valori cristiani e da tanti anni è particolarmente attrezzato e specializzato nella vicinanza morale e materiale, nel sostegno e nella cura e nell'opera di abilitazione e riabilitazione delle persone più fragili. Il presidente della Fondazione ha ricordato gli utenti dell'Istituto che non possono al momento fruire dei servizi riabilitativi erogati attraverso il regime di ambulatorio, domicilio e semiresidenziale sospesi dallo scorso 17 marzo. A questi si aggiunge l'interruzione di altre attività che consentono alla Fondazione di prendersi cura e integrale della persona attraverso percorsi di eccellenza nel pieno rispetto dei valori etici. Donalfio Linoce pone l'accento sullo stato di sofferenza e sulle difficoltà vissute dalle famiglie e dalle persone con disabilità che hanno dovuto rinunciare ai necessari servizi. Nonostante lo sforzo e l'impegno del personale per mettere in atto un'azione compensativa di supporto, patiscono la sospensione delle prestazioni riabilitative necessarie per la qualità della loro vita. L'augurio è che presto la situazione possa tornare alla normalità. Una soluzione per il bene di tutti ritornando al lavoro quotidiano che la Fondazione mette in atto affinché la persona possa essere non solo curata e guarita, ma soprattutto rigenerata in uno spazio d'amore in cui si accoglie e si solleva l'essere umano. La Procura di Siracusa ha acquisito il servizio andato in onda lunedì sera nella trasmissione report relativa alla gestione dell'emergenza sanitaria in provincia. Il procuratore capo Sabrina Gambino ha disposto già ieri mattina l'acquisizione agli atti del filmato che si aggiunge agli altri elementi e spunti di indagine già in possesso degli inquirenti. Sono diversi gli esposti, le denunce e le segnalazioni depositate in queste settimane negli uffici della Procura che costituiscono altrettanti filoni di indagini che potrebbero confluire in un unico fascicolo. All'ospedale Umberto I intanto si sono verificati nelle ultime ore sei contagi. Altri quattro casi di positività al coronavirus sono stati riscontrati infatti al reparto di medicina dell'ospedale Umberto I dopo il caso dell'infermiera dello stesso reparto la cui positività è stata riscontrata ieri. Quest'oggi altri quattro infermieri hanno ricevuto l'esito del tampone che è risultato positivo. È scattato quindi l'isolamento per gli operatori sanitari mentre è in atto la significazione dell'intero reparto oggetto del riscontro positivo al covid-19. Si sta verificando quanto avevamo paventato una ventina di giorni fa spiega il segretario della funzione pubblica della CGL Franco Nardi non avere tempestivamente fornito adeguati strumenti di protezione a medici e infermieri ha agevolato la diffusione del contagio del virus. Oggi i casi stanno emergendo anche perché è in arrivo l'esito dei tamponi. Intanto si sono verificati altri due contagi il primo riguardato l'infermiera in servizio al reparto di medicina l'altro caso di positività al covid è venuto al reparto di geriatria. Si tratta di un'anziana paziente che è stata esolata. Il primario Alfio Cimino ha disposto l'immediata sanificazione del reparto e il blocco temporaneo dei ricoveri mentre sono stati sottoposti a tampone medici, operatori sanitari e parte dei pazienti. Buone notizie invece per la persona residente a Priolo che si trovava ricoverato all'Umberto I perché positiva al covid-19 è stata dimessa dalla struttura ospedaliera come confermato dal sindaco Pippo Gianni il paziente comunque dovrà osservare un periodo di isolamento domiciliare di due settimane. Intanto c'è sempre in ballo la polemica relativa alla gestione dell'emergenza sanitaria il sindaco ieri come sapete ha denunciato che c'è ormai una frattura insanabile tra la città e i vertici sanitari siracusani ed è una frattura che deve essere superata perché dobbiamo creare un nuovo clima di fiducia che ormai non c'è più. Il primo cittadino siracusano nel corso della diretta Facebook ha reso note le iniziative messe in campo alla luce delle reazioni seguite all'inchiesta mandata in onda dalla trasmissione Report di Rai 3 affermazioni che nel pomeriggio dopo una riunione di giunta sono state consacrate in un atto di indirizzo politico rivolto al governo regionale e ancora la giunta ha preso atto delle azioni e degli atti adottati dal sindaco e avanza tre richieste al presidente Musumeci e all'assessore alla salute razza la prima è quella di adottare ogni atto di loro esclusiva competenza necessario all'immediato ripristino di condizioni di piena fiducia da parte dell'aggiunta della cittadinanza nei confronti dei vertici dell'ASP siracusana dell'ospedale Umberto I fiducia venuta meno nei confronti degli attuali vertici Sarà presentato all'Ars un ordine del giorno per proporre l'istituzione di una commissione speciale di indagine sulla gestione della pandemia dovuta al coronavirus covid-19 come preannunciato nei giorni scorsi una volta terminata la fase acuta dell'emergenza sanitaria ribadisce il deputato regionale Giovanni Cafeo verrà il momento di verificare con attenzione quanto accaduto anche alla luce di quanto riportato dalla stampa ed evidenziare così eventuali responsabilità politiche essendo ovviamente di pertinenza della magistratura qualunque aspetto giudiziario l'auspicio è che quanto prima ci si possa avviare verso la cosiddetta fase 2 ovvero verso quel momento di stabilizzazione verso il basso dei numeri dei contagi iniziando quindi una inevitabile convivenza con il virus propedeutica anche alla graduale ripartenza delle attività economiche oggi bloccate tale indagine che competa al Parlamento nell'esercizio delle sue fondamentali funzioni prosegue Cafeo nell'ordine del giorno presentato è finalizzata anche a prevenire ulteriori criticità e assicurare che effettivamente la Sicilia sia predisposta e pronta a gestire al meglio le esigenze di prevenzione e di risposta è mia intenzione sottoporre questo ordine del giorno a tutti i colleghi deputati afferma Giovanni Cafeo proprio in nome del rispetto dovuto all'aula su questo tema così delicato sul quale si esige la massima chiarezza a prescindere dal colore politico di appartenenza infine ho chiesto all'assessore Razza un intervento immediato conclude l'onorevole Cafeo con l'obiettivo di mettere in campo ogni iniziativa volta a verificare la situazione dell'ospedale Umberto I di Siracusa ripristinando le condizioni di sicurezza ma soprattutto la credibilità nei confronti dei cittadini in previsione dell'istituzione della commissione di indagine è stato attivato l'indirizzo mail dedicato alla raccolta delle segnalazioni dei disservizi riguardo al comparto sanitario di Siracusa il materiale sarà raccolto in forma anonima ma ovviamente le segnalazioni dovranno essere ben circostanziate e corredate se possibile di adeguata documentazione comprovante l'avvenuto di servizio Alcune imprese siracusane hanno risposto presente all'appello lanciato da più parti mettendo a disposizione i propri macchinari le maestranze e la tecnologia per l'emergenza sanitaria tra queste Coemi Tecnosecur Gespi hanno aperto i capannoni per consentire di realizzare componenti che serviranno a trasformare le maschere da sub in dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri in prima linea negli ospedali al contrasto del covid-19 utilizziamo componenti meccanici in questa occasione ci mettiamo a disposizione anche per questa emergenza che è fondamentale la stampante in questo momento sono in fase di lavorazione i componenti della maschera adeguato a sollecitare le imprese il medico Franco Battaglia siracusano che ha già consegnato a titolo personale le prime mascherine di protezione ai suoi colleghi l'obiettivo è quello di reperirne ancora e di modificarne almeno un centinaio in attesa andiamo a reperire maschere dalla zona industriale laddove è possibile per cercare soprattutto di dare coraggio ai nostri guerrieri in prima linea che ci stanno aiutando e che mano a mano l'esercito viene decimato dal virus speriamo di riuscire quando veniamo a dare una mano ai nostri amministratori che in un momento di grande difficoltà e sotto pressione anche loro hanno delle difficoltà quindi cerchiamo di essere noi meno operativi ed essere concreti non è il momento di andare in campo e di lottare tutti insieme una piazza intera per la raffigurazione della passione di Cristo così si presenta piazza del popolo a Palazzolo una rappresentazione della crucifissione di Gesù talmente grande da affidare la protezione per l'umanità in questo preoccupante momento storico caratterizzato dal covid-19 lo stesso sindaco di Palazzola Creide Salvatore Gallo con gratitudine presenta e spiega l'opera di di Andrea Caruso vi voglio fare tutti gli auguri di buona Pasqua di una serena Pasqua con le immagini di questo crocifisso che è stato posto nella piazza di Palazzola Creide davanti alla chiesa quasi a supplicarla a supplicarla per la sconfitta del covid-19 che ci sta flagellando e ci sta rendendo poveri poveri di tutto poveri della nostra libertà poveri del nostro futuro nella coscienza che da un momento all'altro possiamo anche essere attaccati una Pasqua oltremodo insolita oltremodo inusuale senza le funzioni religiose senza riunirci assieme alle nostre famiglie senza lo stare assieme non potendo andare a fare la Pasquetta per noi un rituale pasquale dal quale non riusciamo assolutamente a distaccarci quindi vi auguro una buona Pasqua ricordandovi di pregare per noi stessi per tutti e per tutta l'umanità affinché possiamo essere salvati da questo dramma da questa tragedia che stiamo vivendo il crocifisso in piazza è quello realizzato nel 2010 da Andrea Caruso un giovane artista palazzolese scomparso prematuramente per un male incurabile un giovane artista che avrebbe dato alla Sicilia l'UMI per l'arte e avrebbe dato spessore e che purtroppo è andato via è andato via ad una teneretà grazie Andrea pensaci anche tu da lassù e suppliche il Signore nel difenderci solidarietà vicinanza e piena disponibilità ai colleghi medici agli infermieri e alle istituzioni sanitarie e ai cittadini che in questo momento stanno contrastando questa epocale emergenza le abbiamo comunicate già all'inizio di questa battaglia convocando tutti i medici di famiglia per confrontarci e attuare strategie atte a tutelare per primo gli addetti ai lavori e di conseguenza la salute collettiva lo ribadiamo oggi quando la fiducia reciproca necessita di essere ulteriormente rafforzata lo dichiarano il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Siracusa occorre evitare in questo frangente sottolineano il Presidente Anselmo Madeddu e i consiglieri sottoscrittori della nota di alimentare ulteriori polemiche e lavorare uniti per il bene comune medici personale parasanitario forze dell'Ordine protezione civile associazioni di volontariato lavorano ormai da oltre un mese per stare a fianco dei cittadini e offrire loro assistenza medica sociale e anche morale con l'unico scopo di uscire quanto prima da questa situazione che coinvolge tutto il mondo si continui prosegue l'Ordine a lavorare tutti e uniti per il bene comune appena tre mesi fa nessuno in questo pianeta sapeva cosa fosse il SARS-CoV-2 un virus i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti le cui caratteristiche però ovunque si stanno cominciando a conoscere soltanto ora giorno dopo giorno si tratta di un evento sanitario inaspettato ed eccezionale a questa contingenza è normale che nessuno fosse preparato neanche nei modernissimi Stati Uniti non è esagerato infatti equiparare questa pandemia ad una vera e propria guerra che deve vederci uniti in campo gli uni per gli altri e no gli uni contro gli altri purtroppo questo mostro sta ammietendo milioni di malati e di morti in tutto il mondo e non c'è da stupirsi che questo accada malgrado ogni sforzo in trincea anche a Siracusa poi se emergeranno responsabilità penali nei singoli casi ci penserà la magistratura ad appurarlo il nostro compito rimane sempre e comunque quello di provare a salvare quante più vite possibili nonostante il nostro impegno però non abbiamo ancora la capacità di rendere immune dagli effetti devastanti di questo virus nemmeno Siracusa anche nella nostra realtà dunque così come nel resto d'Italia ci siamo trovati impreparati a contrastare un nemico invisibile di cui poco o niente si conosceva i medici che lavoravano nelle strutture di ricovero e anche sul territorio vista l'eccezionalità degli eventi e le carenze strutturali ataviche ereditate si sono trovati all'inizio in trincea con numerosi problemi anche regioni all'avanguardia da un punto di vista sanitario si sono viste scoppiare in mano il problema con un'enorme quantità di persone infette e decedute sia tra i sanitari che tra i cittadini dopo un primo momento di sbandamento è stato giusto organizzare come è stato fatto una cabina di regia che governi le situazioni di criticità sia all'interno degli ospedali sia sul territorio la carenza strutturale cronica delle nostre strutture ospedaliere che non potevano essere modificate immediatamente ha fatto sì che si ritardasse in modo non colpevole nel raggiungimento di uno standard di sicurezza di accesso ad oggi ancora non del tutto risolta i casi di contagio fra medici operatori sanitari ed agenti ci sono stati senza dubbio ma guardiamo anche quello che è accaduto in Lombardia pertanto non è corretto che qualcuno dall'alto del proprio ruolo abbia scaricato responsabilità a medici e infermieri ci si auspica che da ora in avanti l'arrivo promesso di una quantità adeguata di dispositivi di protezione individuale e la possibilità di eseguire tamponi sia al personale sanitario parasanitario e a cittadini che ne hanno bisogno permetta di riequilibrare una situazione che fino adesso ha registrato una certa difficoltà gestionale a questo punto però dovremo fare in modo di pensare al futuro la famosa fase 2 e non dovremo farci trovare impreparati medici e personale parasanitario adeguatamente formati e protetti potranno così continuare a combattere a fianco dei cittadini per sconfiggere questo male insidioso ed ancora oggi non completamente conosciuto tutto questo è e sarà il frutto di un lavoro oscuro e immane che gli operatori della sanità stanno portando avanti in silenzio con umiltà e abnegazione grazie ancora a medici infermieri dirigenti e istituzioni sanitarie civili e militari che tutti insieme si stanno prodigando senza risparmio in questa battaglia in cui l'unico nemico è la malattia e i beneficiari dell'impegno di tutti noi i cittadini prosegue a ritmo serrato l'inchiesta giudiziaria scaturita dalla morte della direttore del parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto gli avvocati giuca e trombatore che assistono i familiari della vittima hanno prodotto un'ulteriore documentazione medica a supporto della tesi per cui vi sarebbero delle responsabilità in capo ai sanitari che hanno avuto modo di trattare il caso clinico dell'architetto il PM Enea Parodi ha affidato la delega dell'indagine alla polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria della procura retusea che sta acquisendo cartelle cliniche e dichiarazioni finalizzate a ricostruire i 13 giorni in cui si è dipanata l'intera vicenda dal 28 febbraio quando Rizzuto avendo accusato i primi sintomi si è rivolto alla struttura sanitaria fino al 12 marzo quando a causa delle complicazioni del quadro clinico è deciduto durante il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'Umberto I è questo il periodo in cui si sta scandagliando la procura ha acquisito anche l'intera intervista rilasciata all'inviato il report dal figlio del direttore del parco di Siracusa Adenzio Rizzuto si tratta di una girata di circa un'ora in cui il congiunto risponde a molte altre domande non andate in onda per questione di sintesi al momento il fascicolo è contro i gnoti e si indaga per omicidio colposo sul caso della morte dell'architetto Rizzuto anche l'ASPO 8 ha chiesto un'indagine interna e l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha inviato all'ospedale Redusea un pool di esperti che avrà il compito di accertare la gestione del caso clinico della commissione fanno parte i professori Ercole Conce che è ordinario di malattie infettive all'Università di Verona Gaetano Servidio ordinario di medicina interna e di urgenza all'Università di Foggia Riccardo Tartaglia presidente dell'Italian Network for Safety and Health Care in Firenze e Cristoforo Pomaro ordinario di medicina legale all'Università di Catania oltre che componente del comitato tecnico-scientifico per l'emergenza coronavirus in Sicilia Uno degli errori più frequenti in questo periodo in cui si lotta contro un nemico invisibile chiamato Covid-19 è quello di sminuire il possibile contagio da coronavirus come la storia della signora Patrizia Muscetti siracusana di 57 anni che ha dovuto lottare con tutte le sue forze per ben 15 giorni contro i sintomi del Covid-19 e dopo le numerose chiamate solo dietro minacce di denuncia si decidono ad intervenire l'abbiamo contattata telefonicamente e una voce molto dolce ma stanca e ancora affannata racconta del suo calvario iniziato a metà marzo con i sintomi tipici del coronavirus che ormai tutti conosciamo se non fosse stato per la sua forza e determinazione oggi potrebbe non essere qui a raccontarci la sua esperienza fatta di paure e sensazione di abbandono da parte dei sanitari la signora Patrizia arriva al pronto soccorso con il 60% di ossigeno nel sangue risultata quindi positiva al Covid-19 ma adesso fuori pericolo oggi la signora Patrizia Muscetti vuole raccontare la sua tragica storia per lanciare soprattutto un messaggio importante quello di non mollare e insistere davanti alla sufficienza di come vengono trattati i possibili casi e quindi di pretendere l'immediato intervento per evitare il peggio è arrivare a prendere la malattia in tempo giorno 16 notte ho cominciato a stare male con la febbre i brividi di febbre 38 e mezzo così poi l'indomani ho chiamato il medico e dice allora faccia un po' di aerosol e all'occorrenza la tachipirina va bene passano i giorni e questa cosa continua a non lasciarmi mai cioè la febbre la tosse continuava a essere sempre più insistente dell'inappetenza lo sfatto e il gusto sono spariti mal di pancia diarrea ho richiamato il medico facciamo anche 5 giorni di antibiotico un antibiotico e niente acqua fresca poi mia figlia mi ha fatto notare questo fatto dell'inappetenza della diarrea che erano sintomi che appartenevano appunto al coronavirus stavo male anche a parlare cominciavo giustamente non mangiando a indebolirmi ho richiamato di nuovo l'ambulanza una mattina del mercoledì di quella settimana fatidica e di nuovo mi hanno sconsigliato si dico a me fatemi un tampone venite qualcuno a farmi il tampone visto che devo stare comunque a casa da sola e che non ci può essere nessuno ad aiutarmi va bene allora chiede al suo medico di farsi fare la richiesta di un tampone ho richiamato il mio medico di nuovo signora ma che va pensando e poi dice io il tampone non glielo posso far fare perché non sono io a chiedere ma deve andare a pronto soccorso comunque il venerdì del 27 un ulteriore nottato con la febbre e tosse che mi sono spaventata alla mattina mi sono presa di nuovo le mie ultime forze e ho chiamato ho chiamato l'ambulanza per la terza volta stavolta stavolta li ho quasi minacciati perché se non venivano li denunciavo così sono arrivati finalmente e li sono arrivati in primi soccorsi e poi la tazza signora Patrizia specifichiamo che sono arrivati perché lei è arrivata a doverli minacciare che li avrebbe denunciati i carabinieri perché io eh sì perché alla fine uno dice ma insomma ma io che devo arrivare lì mezza morte no ho arrivato all'ospedale lì altre due ore ho dovuto aspettare poi c'è stato quella dell'ambulanza e la dottoressa che vedevano che stavo male e mi hanno entrato col codice rosso sì e lì praticamente poi c'è stato un parapiglia perché non si dovevano permettere insomma io stavo male sentivo tutte queste cose sinceramente stavo ancora a peggio poi mi hanno portato a fare la tac che subito ho ascoltato che era positiva e quindi dalla tac capiscono che c'è una polmonite in corso una polmonite grave sì e lì poi hanno cominciato subito la terapia intanto che aspettavano l'esito del tampone che mi è arrivato dopo due giorni e anche l'esito del tampone risulta positivo sì 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 ecco adesso lei si trova all'ospedale di Noto al trigona di Noto sì ieri eravamo in uscita però c'è stata questa nuova direttiva che ha disposto questa cosa che noi tenervi sotto controllo seguiti qua al trigona di Noto qualche altro giorno fare ulteriori tamponi prima di rientrare a casa perfetto signora Patrizia questa è la sua esperienza sulla sua pelle cosa si sente di dire a tutti che messaggio vuole mandare affinché si intervenga nell'immediato e non si sminuiscano i sintomi che i cittadini denunciano ecco cosa vuole dire no io voglio dire che intanto in prima persona noi stessi dobbiamo essere soccorritori perché se non ci pensiamo noi appunto ci prendono troppo sotto il banco e quindi bisogna proprio insistere e pretendere assolutamente che qualcuno vi venga in soccorso io sono stata mi ritengo una persona miracolata miracolata perché se io non chiamavo più io morivo nel mio letto ragazzi non stiamo scherzando vogliono vederci chiaro sulle cause della morte del padre venuta la notte del 7 aprile all'ospedale Umberto I sono due sorelle floridiane che si sono affidate all'avvocato Emanuele Scorpo le quali hanno presentato un esposto in procura chiedendo di indagare sulle cause del decesso del loro genitore 83enne le due donne hanno ricostruito le fasi del ricovero a partire dal 30 marzo quando il padre è accusato dei dolori addominali è stato trasportato in ambulanza in ospedale per tre giorni è stato ricoverato al reparto di medicina d'urgenza del pronto soccorso dove gli era stata diagnosticata un'ulcera perforata fino al 2 aprile le condizioni di salute del genitore sembravano discrete ed era lucido sebbene sotto sedativi la sera del 2 aprile è stato trasportato al reparto di geriatria dove i contatti con i familiari sono avvenuti attraverso il telefonino il 5 aprile la vittima diceva dagli occhi oltre che decimi di febbre una condizione che non lasciava però supporre ai sanitari una complicazione dovuta al rischio di contagio al covid-19 la famiglia ha chiesto a quel punto che il loro congiunto fosse sottoposto al tampone per escludere questa eventualità ma secondo quanto denunciato dai familiari l'esame non è stato possibile farlo perché nel frattempo l'anziano floridiano è deceduto ma alla richiesta dei familiari quale fosse la motivazione del decesso si sospetta un arresto ma perché i familiari chiedono abbiamo chiesto il tampone non l'avete fatto ma stessa cosa che chiede questa segreteria perché non avete fatto i tamponi visto che c'erano le presenze dei codiv perché non avete fatto il tampone per tutelare tutti gli infermieri e i medici e gli os presenti nel reparto perché se aveva un piccolo sintomo piccolo basterebbe piccolo per allarmare visto che comunque era un paziente anziano altro caso è stato segnalato dalla stessa segreteria dell'afsi un paziente anziano floridiano è stato dimesso dal pronto soccorso pur avendo febbre e tosse ci giunge a questa segreteria ieri sera e questa mattina segnalazioni chiamate perché ci comunicano che un paziente di floridia viene dimesso ieri l'altro ieri dal pronto soccorso dall'ospedale Umberto I pur avendo febbre tosse e quant'altro anziano e lo stesso si è aggravato a casa ieri sera è stato portato in ospedale con urgenza con l'ambulanza di 118 con febbre a 40 e gli viene diagnosticata anche una grave polmonite ieri oggi ricoverato al pronto soccorso bene perché è stato dimesso questo paziente qualche giorno prima sono impegnati in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria un lavoro spesso oscuro ma efficace per le comunità che rappresentano diamo la parola ai sindaci che in questi brevi filmati mandano un augurio di buona Pasqua un augurio di una Pasqua serena a tutti i miei concittadini una Pasqua che nessuno di noi dimenticherà ma che sarà particolarmente difficile per alcune famiglie sotto il profilo economico che sia una Pasqua serena una Pasqua di armonia dove possa regnare la generosità e la pace in questa Pasqua caratterizzata dal distanziamento sociale un abbraccio virtuale a tutti i miei compaesani auguri di buona Pasqua che questa Pasqua possa portare delle novità in merito alla prevenzione del contagio da Covid-19 auguri ancora buona Pasqua rimaniamo a casa e andrà tutto bene buona Pasqua a tutti tanti auguri un abbraccio virtuale a tutti quanti con la speranza che questo brutto periodo possa passare presto e possiamo ritornare nuovamente alla nostra vita di tutti i giorni auguri di una buona Pasqua a tutti una Pasqua un po' particolare ma carica di speranza e di vero valore di resurrezione rispettiamo le regole perché insieme ce la possiamo fare buona Pasqua Pasqua insolita quest'anno così distanti gli uni con gli altri ma così uniti e vicini nell'affrontare l'emergenza che sia una Pasqua di resistenza e di resurrezione perché dobbiamo resistere ancora un po' a queste difficoltà perché in fondo dobbiamo risorgere più forti di prima buona Pasqua a tutti i miei concittadini Ferla da oltre 150 anni festeggia i riti della settimana santa con processioni e momenti folcloristici quest'anno si resta a casa auguri a tutti i miei concittadini e a tutti quelli che sono impegnati ogni giorno a lottare contro il coronavirus auguri questo è un momento strano è un momento di sofferenza e di meditazione comunque è sempre la Pasqua un grandissimo augurio a tutti voi con tutto il cuore io auguro a tutti voi e alle vostre famiglie che la Santa Pasqua porti nei vostri cuori il sentimento della speranza perché tutti insieme usciremo più forti di prima da questa situazione forza Carlendini auguri a tutti voi la nostra Pasqua la nostra Pasqua oggi è una Pasqua diversa rispetto a quella che abbiamo finora vissuto ci uniamo e ci stringiamo tutti come comunità solidale buona Pasqua buona Pasqua buona Pasqua buona Pasqua limitata dalla possibilità di uscire perché ci saranno belle giornate ma non possiamo uscire non dobbiamo uscire buona Pasqua grazie una buona Pasqua vi giunge da Palazzola Creide dalla piazza di Palazzola Creide con il simbolo della cristianità un saluto carissimo da Palazzola Creide e buona Pasqua a tutti i miei migliori auguri di buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie un augure speciale agli operatori del comparto sanitario ai volontari alle forze dell'ordine ai docenti che curano i nostri ragazzi e a tutti coloro che lavorano presso gli esercizi ancora aperti ai giornalisti un augurio di cuore a tutti